Sì qua. Sì qua. Sì qua. Sì qua. Sì, sì seduta. Sì, no, no, stai entrando l'olio. Sì. Sì. Sì, seduta. Sì, no, no, stai entrando l'olio. Sì, è il reporter. Sì, è il reporter. Sì, è un pezzettino, no, un pezzettino di video. Te lo mando, te lo mando. No video. Sì, ciao.